toc toc chi c'è stasera allo stile dello sport intanto buonasera buonasera a tutti bentrovati a questa rubrica che spero vi faccia compagnia in questi pomeriggi pomeriggio un po grigio qui in toscana mi sono messa questa maglia rosa perché mi sono messa questa maglia rosa anche per annunciare lo sportivo di oggi lo sportivo di oggi è un grandissimo uomo è stato un corridore completo uno dei gregari più importanti degli anni 90 andrea cassani buonasera buonasera a tutti ciao buonasera allora e non è mai sceso una circostanza che ha cambiato la sua strada cosa è successo è successo che stavo cominciando la mia quindicesima stagione io ci riprovo proviamo prova a parlare andrea mi senti mi sento molto bene scusami se ti do del tu però mi viene così mi viene in maniera naturale va bene uguale va bene allora ti stavo dicendo che era il 96 la mia quindicesima stava cominciando la mia quindicesima stagione tra i professionisti ero carcassonna in francia per la mia prima corsa a dire la verità la seconda era il giro del mediterraneo niente esco in allenamento una macchina non mi vede mi investe e lì praticamente finisce la mia carriera perché un mese dopo a quella caduta mi chiama la rai per chiedermi se volevo andare a lavorare per loro e dal momento che avevo 35 anni dal momento che quella mi sembrava una grande opportunità ho smesso di correre e ho cominciato a fare il commentatore sportivo e l'hai fatto molto molto bene insomma sei veramente bravissimo tempi televisivi fantastici una dialettica incredibile altra parte sta persona molto intelligente come dicevo poc'anzi insomma una persona che ha fatto il bene della squadra dove lui è andato sei uno stratega sei molto intelligente per cui caratteristiche che ti sei portato poi e che sono fondamentali fare il città della nazionale però volevo dirti una cosa mi sono messa questa maglia rosa in onore di una competizione che in questo momento si sarebbe potuta disputare forse dai tempi della della seconda guerra mondiale che non si corre sì diciamo che non abbiamo mai corso un giro d'italia ad ottobre speriamo di correre quest'anno perché il calendario c'è il giro è posizionato dal 3 ottobre oggi saremmo stati tutti almeno quelli del giro in ungheria e domani saremmo tornati in italia per ripartire dalla sicilia e il maggio senza giro non è maggio almeno per me o almeno per tutti quelli che seguono e amano il ciclismo io ho fatto il mio primo giro d'italia nel 1982 e quindi sono anni sono davvero tanti anni che il mio mese di maggio è in giro per l'italia faccio questa domanda siamo reduci da due mesi di covid di pandemia sono stati mesi durissimi sono stati questi mesi come salire sul passo del mortirolo su block house monte grappa colle delle finestre colle dell'agnello passo dello stelvio passo manghena colle fauniera passo gabbia zoncolano una di queste o tutte insieme queste salite dai un po tutte il problema qual è è che non siamo ancora arrivati in cima però però fondamentalmente siamo degli scalatori siamo dei lottatori e quindi in cima ci arriveremo e prima o poi gusteremo la discesa siamo noi ciclisti abituati alla fatica abbiamo scelto questo sport perché non abbiamo mai avuto timore della salita del sudore del confronto e quindi sono convintissimo che usciremo quanto prima da questa pandemia sappiamo benissimo che avremo qualche ferita però però bisogna andare avanti bisogna essere ottimisti bisogna continuare a credere in quello che abbiamo fatto fino a due mesi fa e che adesso piano piano ricominciamo a fare allora la programmazione stravolta agosto il tour de france a settembre la competizione ridata e in svizzera a degle martini otto giorni 11 tappe poi ci sarà il giro d'italia quindi tutto è tutto trasformato tu sei il citi della nazionale come valuti un corridore che fino a questo momento ha potuto allenarsi sui rulli adesso può uscire ecco come si fa una valutazione se normalmente si fa cinque sei mesi adesso forse in due mesi dovrai scegliere la squadra portare al mondiale sai io alcuni corridori so già di poterli avere al top perché avremo intanto sì il mondiale è posizionato sempre lì 27 settembre martini svizzera percorso molto duro anche se gli svizzeri non hanno ancora dato l'ok non c'è ancora la garanzia totale che si potrà correre su quel percorso perché c'è anche un piano b perché da quello che ho letto sui giornali se non riusciranno ad organizzare gli svizzeri potremmo andare in umane quindi cambierebbe clima cambierebbe percorso e naturalmente cambierebbero anche uomini però sai per tornando al percorso svizzero io ho già quattro cinque uomini su cui possono contare so che sono bravi so che sono attaccati alla maglia azzurra e so che si prepareranno come non mai alla prova ridata le ultime scelte le farò in base a quello che mi diranno le corse due o tre o quattro settimane prima ma io devo dire che sai anche negli anni passati la nazionale ho cominciato a costruirla mesi prima perché non è che puoi improvvisare un campionato del mondo né io tanto meno i corridori anche l'anno scorso nel mese di aprile con con elia viviani con bettiola con con trentin e con colbrelli siamo andati a vedere il percorso nel mese di aprile e dopo quella dopo quella visione del percorso ci siamo resi conto che per viviani non era un percorso adatto per trentin colbrelli e bettiol sì e loro erano praticamente le mie le mie colonne capitani e sono stati bravissimi perché si sono preparati anche per il campionato del mondo quindi sai una nazionale nasce molti mesi prima e quindi nonostante ci saranno poche corse sono convinto comunque di schierare un ottimo nazionale quanto brucia il secondo posto dell'anno scorso ancora brucia tanto perché i ragazzi sono stati fantastici perché abbiamo visto la maglia eridata fino a 50 metri dal preguardo perché l'abbiamo cercata l'abbiamo desiderata e si è spazzita per un non nulla io sono orgoglioso per quello che hanno fatto i miei ragazzi sono dispiassuto più per matteo trentin perché nella sua vita ha avuto la possibilità di vincere un campionato del mondo però potrebbe avere altre di possibilità perché matteo ragazzo relativamente giovane ha trent'anni e l'anno prossimo ci sarà un altro mondiale che potrebbe essere adatto lui e tornando a quel mondiale si amarezza è stata tanta però ho vissuto una giornata veramente straordinaria per le emozioni per la tensione per per vedere una squadra che si è comportata da vera squadra e da grande squadra noi non eravamo tra i grandi favoriti e abbiamo non dico dominato la corsa ma l'abbiamo l'abbiamo imposta l'abbiamo cercata in quella maniera e solamente un danese più forte di noi ci ha privato di una di una maglia eridata tu sei un figlio professionale se così possiamo dirlo di martini lui aveva mosere saroni e tu io io non ho non ho non ho mosere non ho saroni non ho bettini non ho all'anno però ho un gruppo di ragazzi che in questi anni è cresciuto tantissimo non abbiamo fenomeni straordinari ma abbiamo dei campioni perché viviani trentina lo stesso gianni moscon ragazzi che sono cresciuti in questi anni e ci hanno regalato anche delle storie perché non dimentichiamoci che negli ultimi due anni abbiamo vinto due campionati europei con matteo trentina e delia viviani ha lavorato un campionato del mondo dire che dopo dopo bettini e ballanne che sono stati gli ultimi a vincere i campionati del mondo abbiamo avuto delle difficoltà perché perché le classiche non riuscivamo più a vincere e l'ho sempre detto quando torneremo a vincere le grandi classiche del nord torneremo a vincere i campionati del mondo l'anno scorso delle fiandre con bettiol e abbiamo sperato il campionato del mondo non dimentichiamoci che lasciamo stare i saroni e moser che erano veramente campioni che dominavano in lungo e largo da febbraio a ottobre ma anche quando negli anni 90 abbiamo vinto campionati del mondo con cipollini bettini e con quei corridori prima di vincere il mondiale hanno vinto grandi classiche e quindi e quindi il ciclismo il movimento italiano sta tornando ad alti livelli e sono convinto che con questi ragazzi un mondiale si può vincere abbiamo parlato prima di aspetto fisico no della della forma quanto è importante invece la competizione punto di vista psicologico gli mancherà qualche chilometro nel senso competitivo del termine agli atleti che tu dovrai qualche maniera scegliere no non penso che sono tutti i ragazzi esperti sono tutti i ragazzi abbastanza tranquilli intelligenti ecco tu prima hai parlato di intelligenza io dei ragazzi veramente intelligenti lo hanno dimostrato in corsa e fuori e lontano dalle corse si sono preparati hanno continuato a allenarsi sui rulli adesso hanno ricominciato a dire su strada sai cosa qual è il vantaggio che tutti sono sulla stessa barca tutti hanno purtroppo passato momenti difficili ma come dicevo prima i corridori sono abituati alle realtà sono abituati alle cadute quando cadono la prima cosa che fanno non è vedere o cosa mi sono fatto no la prima cosa che fanno e prendono alla bici la bici ripartono tante volte anche con delle fratture e quindi quindi anche in questo caso ripartono sapendo che sarà un anno del tutto particolare ma chissà potrebbe anche essere più bello mi auguro nel senso di gare di competizioni di agonismo no certo allora un ct al compito ovviamente di selezionare degli atleti viene diciamo a grandi linee stabilità una strategia per come affrontare la competizione ma se dovessi fare una percentuale quanto è farina del sacco del ct e quanto libera scelta degli atleti che scendano su strada io dico sempre che quando si perde la colpa del commissario tecnico quando si vince il merito e dei corridori io ho scelto gli atleti cerco di formare una squadra ho delle indicazioni ma alla fine sono loro che in un determinato momento devono scegliere cosa fare come correre se scattare o se stare a ruota ti faccio un esempio l'anno scorso i campionati europei avevamo un percorso completamente teneggiante l'avevamo studiato avevamo un capitano disegnato che era lì e viviani un regista altrettanto bravo come ma che sapevo che sarebbe stato il mio capitano dei mondiali ma mi serveva l'europeo perché doveva gestirmi una squadra avevo gente che poteva tirare l'inizio gente che poteva essere pronta nel finale sapevamo che c'era per questo che siamo stati noi a portare via il primo ventaglio dopo appena dieci chilometri staccando già un centinaio di corridori e sapevamo che era un tratto di tre chilometri nel centro città nel centro nel punto centrale del circuito dove un attacco potrebbe essere risolutivo perché strade strette tornanti o meglio curve strette quindi il gruppo si sarebbe allungato stare davanti era molto meno faticoso rispetto a stare dietro e io ragazzi gli ho detto io non io non ho la radiolina io non posso dirvi quando poter attaccare ma bisogna fare un attacco a 40 50 60 chilometri dal traguardo perché quello potrebbe essere il momento giusto e quindi ragazzi siete voi dovete guardarvi negli occhi dovete stabilire il momento preciso perché non ve lo posso dire il giorno prima e loro sono stati molto bravi hanno portato via il ventaglio hanno portato via a 50 chilometri al traguardo un gruppetto e ci corridori dove ce n'erano quattro dei nostri e quindi cimolai con sonni si sono sacrificati con matteo trentin e hanno lanciato gli aviani nel finale quindi è stata veramente una una vittoria di squadra io ci ho messo lo zampino ma alla fine sono stati loro a fare quasi tutto oggi ti deve essere anche uno psicologo deve far convivere più anime insomma possiamo definire le prime donne o forse è più diciamo una classificazione più adatta al calcio che al ciclismo il ciclismo è particolare è uno sport individuale ma la squadra è fondamentale e quindi devi scegliere gli uomini giusti è come nel calcio non puoi giocare con quattro punti perché alla fine rischi di prendere i gol e di perdere la partita e anche nel ciclismo serve una squadra equilibrata ruoli ben definiti e lo devono sapere prima e ognuno sa quello che deve fare quello che può fare uno ci può mettere anche l'intelligenza tattica come io ero una sorta di braccio destro di alfredo martini ero il suo regista era quello che andava a parlare con lui ero il suo uomo di fiducia quando mi chiamavano l'uomo di alfredo martini per me era era un bando e quindi cerco di trasferire tutto quello che mi ha insegnato alfredo non solo lui ai miei ragazzi è naturale che l'inizio fatica perché ho fatto un grande errore nei primi miei campionati del mondo ho trasferito tutto quello che era il mio ciclismo al ciclismo di oggi quando invece le corse e i corridori gli uomini sono di nuovo e quindi e quindi anch'io ho fatto la mia esperienza ma ho cercato appunto di mettere qualcosa di mio e come ti dicevo prima ho la fortuna di avere che fare con dei ragazzi intelligenti ragazzi con i quali posso parlare con i quali ho grande stima e fiducia a tal punto che due settimane tre settimane prima del mondiale a volte sono stati loro stessi a dirmi guarda sono riuscito a prepararmi preferisco stare a casa e quindi e quindi questo grande senso di responsabilità grande senso di responsabilità per l'altro la maglia della nazionale è la mia seconda pelle la maglia della nazionale non è una maglia come tutte le altre è un simbolo un vero simbolo e quindi è una maglia che deve essere usata e quando la indossi e fai un qualcosa di straordinario sei sei uno che in quel momento rappresenta la nazione non è cosa da poco non è cosa da poco e questo i miei ragazzi lo sentono in modo particolare come noi quando 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 correvamo certamente hai parlato del ciclismo moderno si può definire un ciclismo più di qualità che di quantità rispetto al passato ma penso di sì nel senso che alla fine il livello si è alzato vanno molto più veloci vanno molto più forte quindi per vincere devi essere al top una volta giornate di gara adesso ne fanno 70 80 cercano di calibrare bene di forma gli appuntamenti e quindi soprattutto i grandi campioni cercano la vittoria di qualità perché è quella che ti cambia la vita e ti cambia la carriera chi era il tuo idolo da piccolo io ho avuto solamente un idolo felice gimondi perché mio padre mi portò a vedere mondiale nella 68 avevo sette anni io sono nato nel 61 e ti favo per gimondi mio padre ti favo per il bologna perché il mio padre era tifoso del bologna e quindi da ragazzino ho sempre e solo ti fatto per felice gimondi marinai un patrimonio di mio zio vedere quel campionato del mondo che tra l'altro felice riuscì a vincere battendo martens e il grande è di merce e io ero lì appollaiato sulla sede saltai di gioia quando felice gimondi alzò le braccia al cielo così come mi ricordo ancora nel 78 quando non era più il capitano della bianchi piaggio ma era un gregario di on the moon che io andrei sul trebbio una collina qui sopra casa mia per vedere l'arrivo di tappa e felice quel giorno ero in fuga non vinse arrivo sesto però il mio campione preferito il giorno che ci incontrammo fuori dall'uscita di parma ovest l'autostrada per firmare il contratto della per la ghevis bianchi perché lui era il presidente della squadra davanti a me non avevo il presidente della ghevis bianchi ma avevo felice gimondi il mio idolo perché poi quando tu nasci con un idolo rimane per tutta la vita si rimane stampato nella mente volevo dire un'altra cosa volevo domandarti questo tanti ciclisti o almeno sportivi sono dati al ciclismo su strada vengono dal ciclo ciclocross dalla mountain bike perché questo perché il ciclismo è cambiato perché una volta i campioni nascevano in strada con la bicicletta da strada con le corse adesso invece ci sono tante specialità che secondo me sono propedeutiche sono una vera e propria scuola per poi diventare campioni anche e soprattutto su strada perché fai allenamenti diversi perché fai sforzi intensi perché le corse sono più brevi ma riesce ad allenare a quei muscoli che poi alla fine sono utili su strada sulle grandi sforzi gli sforzi che fai con mountain bike la tecnica che impari in queste specialità è fondamentale come quella della pista non è un caso che negli ultimi anni come tu hai detto dei campioni olimpici su pista siano diventati vincitori per franza wiggins e garen thomas o cavendish che ha vinto primo mondiale su pista poi mondiale su strada lo stesso anna filippa ha fatto secondo in un mondiale di ciclocross e gamberna l'ha fatto due terzi in due mondiali di montanbassi orres vuol dire che bisogna cominciare con queste specialità perché intanto sono più divertenti anche più sicure perché non sei su strada ma sei sui campi o sui sentieri di montagna o in un velodromo ma ripeto proprio l'approccio è l'applicamento che ti porta a enfatizzare a migliorare quelle caratteristiche che sono poi vincenti anche nel ciclismo su strada in questo ciclismo è cambiato tantissimo ho letto anzi ho sentito qualche tua intervista in cui dici che i ragazzini non devono essere stressati e quindi volere dal loro subito risultato ma diversificare proprio magari far dedicare loro l'attività sia su strada che mountain bike appunto in altre discipline perché così non si annoiano il ciclismo potrebbe essere noioso se tu fai sempre le stesse cose se tu hai un bambino dalla mattina alla sera si stanca anche di una playstation se la dai una volta ogni tanto si diverte un sacco la bicicletta il ciclismo è uno sport di fatica e quindi bisogna dosare questo sport soprattutto con i ragazzini io tra l'altro farei anche presto a fare andar forte un ragazzino farlo vincere ci vuole veramente poco lo alleno il doppio coetaneo ma non posso allenare un ragazzino per tutta la vita lo brucio e quindi la cosa più importante eventualmente cominciare si tra i giovanissimi ma fare altre attività sportive mio padre che era un lungimirante uno che mi voleva abbastanza bene mi ha sempre detto e io pensavo di no mi ha sempre detto vuoi correre in bicicletta a 13 anni la bicicletta te la compro prima no fai quello che vuoi ho giocato calcio ho corso a piedi e finalmente è arrivata la bicicletta a 13 anni ha cominciato 14 e quando si andava in vacanza la bicicletta stava a casa e io ci stavo malissimo ma quando tornavo sai cosa era la prima cosa che facevo prendevo la mia bicicletta e facevo una volata quindi la passione dandomela poco la bicicletta è aumentata sempre di più e quindi alla fine bisogna fare in questa maniera uno comincia cose sul serio a 17 18 anni non prima e lo dimostra il fatto che a 18 anni si è buttato da un trampolino perché faceva quello sport e renko e venepola fino a 17 anni era il capitano della nazionale belga di calcio quindi quello che si fa prima non conta assolutamente niente sì serve per imparare per migliorare per essere poi pronti quando sarà necessario nei giovanissimi devi giocare e possibilmente fare altre attività fisiche perché un bambino ha bisogno di divertirsi ha bisogno di giocare perché a quell'età a 7 8 9 10 anni lo sport è ancora un gioco e altrimenti rischia di intossicarsi allora intanto stanno scrivendo che tu sei rassicurante ed effettivamente è così consentirti parlare è veramente una gioia e la rassicurazione l'equilibrio è una componente sono delle componenti importanti per per un ct una componente importante per fare questo sport sport massacrante è l'alimentazione tu davide dai molta importanza a questo aspetto infatti quando ci siamo sentiti ti ho detto ma senti in questa rubrica lo stile dello sport si parla anche di ricette lo mi ha detto io non so cucinare neanche d'uova e allora avere davide cassani bisogna per forza in questo caso per la tua mentalità per la tua forma mentis io devo chiederti un ciclo amatore una persona che si vuole avvicinare alla bicicletta deve affrontare chilometri e chilometri come deve alimentarsi allora intanto ti posso dire che le uova sode le so cucinare ma proprio bene davvero quanti minuti sette sette minuti e non vedo bolle un po dopo un po spengo e di solito quando 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 le mangio sono sode allora anche qui serve equilibrio uno non deve privarsi di chissà che cosa le cose fanno male ne deve mangiare meno parte che io sono fortunato perché non lo so poi se sono fortunato oppure no sono astemio quindi qualcuno di mi dice che non sono fortunato perché mi lo dicono anche a me io vivo in un paese dove dicono che ci sia un buon vino vino di monte carlo io non l'ho mai assaggiato perché non amo bere però in compenso a mangiare tu invece sei una persona che è lì già mangi poco spesso come fanno i grandi mangio poco mangio spesso perché non sono un mangiatore però cerco comunque di curare un po l'alimentazione perché perché se ad una ferrari li metti dentro della benzina sporca non va e quindi è molto importante l'alimentazione io l'avventaggio che non cresco di peso perché più o meno sono sempre sui 68 69 70 chili ero 65 quando correvo adesso 59 anni più o meno sono sempre con lo stesso peso perché poi per ripeto l'importante non è mangiare poco e soprattutto andare bene poi amo il gelato amo la pizza e quindi mi tolgo le mie soluzioni però cerco di 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 dosare quindi alla mattina una buona colazione cereali cerco di non prendere zuccheri perché alla fine si alza troppo la glicemia ci metto qualche proteina nella fine se devi sempre cercare di equilibrare cercare sempre di come fare le fare il fuoco con la legna con la paglia perché cosa succede se tu prendi tanti tanti zuccheri no e poi devi uscire in bicicletta è come fare fuoco con la volta poi si spegne e quindi alla fine devi cercare di mangiare mettendo ogni tanto quasi sempre un po di proteine insieme ai carboidrati cercando di mangiare prodotti a basso indice glicemico quindi sto un po attento con quello però le mie i miei spisi me li tolgo con certo certo poi da quelle parti si mangia anche bene romagna di loro di loro ma che fa dei fa fa dei piatti veramente ordinari quindi a cominciare dai cappelletti dai tortellini dai passatelli e quant'altro vai ancora nel senso ti alleni la mattina pomeriggio qual è la programmazione di davide cassani quando voglia per me in questo momento da diversi anni non è un allenamento ma è un modo per stare bene io nella mia vita ho fatto più meno 800 mila chilometri ma ancora adesso presso di chilometri in bicicletta ne ho fatti 12 mila coro anche a piedi per fatto anche diverse marattone ho fatto anche la 100 chilometri del passatore da firenze faenza l'ho fatta perché io abito in piazza faenza e quindi ho sempre detto una volta nella mia vita voglio partire da firenze e tornarmene a casa a piedi e l'ho fatta e sono contento ci stanno seguendo in tanti matteo riva salutatemi e lo salutiamo e come si fa a non amare davide cassani perché effettivamente c'è chi ti vorrebbe anche ministro dello sport sono politica sono un tempo e è orgoglioso di esserlo mi piace lo sport la passione dello sport ce l'ho fin da piccolo fin da bambino io come ti ho detto ho sempre ho sempre saputo che da grande avrei fatto il corrido era il mio sogno il mio obiettivo e quando hai un sogno vuol dire che riesci a capire prima degli altri quale sarà perché comunque è la strada che sai qual è sai quando tu non sai cosa fare arrivi un video e ti fermi vado di qua io ero sicuro che la mia vita era quella poi sono stato bravo fortunato e tante altre cose però la passione per la bicicletta mi ha veramente reso questa vita molto bella e piacevole ma si vede si vede si sente quanto ami la tua vita quanto ami questo sport ma un'ultima cosa ma quando sei ora non sei sull'ammiraglio no per seguire la squadra al mondiale si è mai capitato di pensare adesso prendo scendo dalla macchina salgo in bicicletta gliela faccio vedere io no allora devo fare una confessione sono uscito con i miei ragazzi anche due anni fa tra due l'anno scorso e due anni fa e la verità c'è stato un momento che le ho anche staccati tutti e allora addirittura avevo la bici elettrica non si fa non si fa guarda io sono vado la metà rispetto a quando andavo sono ancora bravo sono ancora forte ma i professionisti vanno esattamente il doppio di me e quindi io sono uno di quelli che non ragazzi io vado in macchina la bici elettrica perché la bici con la pedalata assistita mi permette di stare in mezzo a loro di anche in bicicletta di entrare ancora di più nel meccanismo della squadra però non li invidio perché correre in bicicletta è faticoso eh sì penso proprio di sì quanti tagliandi ha fatto fino ad ora eh ne ho fatti ne faccio tanti di 800mila chilometri sai io ho fatto la stessa vita di mio padre mio padre ha fatto il camionista per una vita no lui viaggiava in camion e quindi abbiamo abbiamo speso tante ore tante giornate della nostra vita sulle strade e insomma sei veramente una gran bella persona ce lo stanno dimostrando anche coloro che lo dicono anche coloro che ci seguono senti davide io starei veramente delle ore a parlare te non sai quanto mi sta appassionando il ciclismo io vengo dal calcio poi mi sono data all'ipica e adesso al ciclismo ma con grandissima soddisfazione perché quando io vado a rivedermi qualche corsa ho vinto anche delle cose ai cavalli tu al troppo allora quando incontri Riccardo Magrini fatti raccontare di quella volta che ormai pensava di vincere e l'ho battuto proprio per una narice una sì un centimetro a Montecatini lui ce l'ha ancora figuriamoci anch'io l'ho battuto Riccardo Magrini ma non vuole sentirselo dire Montegiorgio invece no ma è un fenomeno lui mi ha battuto a sua volta insomma bisogna essere come dire bisogna saper perdere la vita pensare di vincere ma bisogna anche saper perdere io ho imparato subito ho capito subito che per vincere bisognava provare riprovare riprovare perdere tante volte tra l'altro punto è uno delle cose belle di questo sport del ciclismo perché vincere è faticoso e subito da bambino quando cominci a gareggiare ti rendi conto che per vincere devi applicarti devi sacrificarti devi allenarti ed è una scuola di vita straordinaria il giorno che riesci a vincere sei l'uomo più contento di questo mondo tu pensa che sì la dilettante di corse ne ho vinte non tantissime ma abbastanza al primo anno vinto di allievo sei arrivato terzo al secondo anno hai vinto tre tappe esatto vinto tre corse ho vinto la bologna ho vinto la vignola a zocco vinto il campionato di vignolo e quindi alla fine sì sono riuscito a passare professionista giovane a 21 anni con la termo langalli con bruno reverberi e tu pensa che ho impiegato sette anni per vincere la mia prima corsa sette anni senza vincere non è facile sì sono stato i mondiali un paio di volte buoni piazzamenti ma mai una volta che ero riuscito a battere tutti però ero convinto che se avessi continuato su quella strada ci sarei riuscito cercato di lavorare su me stesso cercato di migliorare me stesso giorno dopo giorno settimana dopo settimana e quando cerchi di migliorare te stesso vinci quasi sempre perché comunque se è gratificante perché vedi che migliori e se migliori dice al giorno che arriverà il giorno che mi andrà tutto bene e quel giorno è arrivato e dopo quel giorno ne sono arrivati altre 26 di giornate meravigliose quindi perché ho vinto dire vincere e so cosa vuol dire non vincere anche perché come dicono tanti no a volte o vinci o impari qualcosa per non aver vinto a proposito di limiti nel ciclismo attuale siamo arrivati dei limiti ci sono ancora dei margini di miglioramento ma sai ci saranno il miglioramento perché perché i mezzi saranno sempre più performanti saranno sempre più precisi sei una volta così a spanna poi è arrivato il cardiofrequenzimetro per controllare il cuore poi è arrivato il misuratore di potenza per vedere i ragazzi si allenano in altura fanno le ripetute ogni volta che fanno allenamento il file dato al preparatore che lo analizza e ti dice quello che devi fare il giorno dopo ha sempre ci sarà sempre qualcosa di più utile di più importante e quindi e quindi si andrà sempre leggermente più forte perché non c'è ancora l'allenamento ideale e quindi e quindi l'uomo è portato per migliorarsi davide castani è scaramatico sì sì abbastanza ho capito quindi non non ti auguro niente per l'amor del cielo no quello poi un in bocca al lupo in bocca al lupo perché quest'anno dai possiamo migliorarci speriamo di correre nelle corse speriamo di vincere di ottenere quei risultati che inseguiamo che no perché alla fine è sempre quello lo scopo no sempre quello di cercare di di regalarci delle belle cose tu come persona hai vinto a prescindere non ancora ho ancora ancora di sogni di realizzare quindi lavoro per quelli mi posso sapere no ok ti telemono in privato mai incuriosire una donna perché sotto la giornalista c'è una donna sappilo va bene dai abbiamo modo di risentirci o ti faccio veramente un grossissimo in bocca al lupo ti faccio complimenti e per tutto quello che hai fatto e per quello che fa che fai che farai ciao davide e a presto ciao 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 se volete vedere questa intervista andate sul mio canale il canale youtube e potete risentire le parole suadenti del nostro davvero cassani ciao a tutti